Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi vi porto un unboxing riguardante un paio di cuffie della Sony queste cuffie ragazzi mi sono state fornite dal mio sponsor, il mio sponsor ufficiale del canale che è Play Jockey Editor per informazioni come ho già detto in seguito vi lascerò il link in descrizione, sta organizzando le sue pagine, le sue cose per tutti i vari sconti, le varie cose insomma ci saranno tante piccole novità per quanto riguarda Play Jockey Editor, per quanto riguarda questo sponsor, questo fantastico sponsor ragazzi per info potete chiedere anche momentaneamente a me per qualunque articolo, per qualunque cosa però comunque come vi ho già detto in seguito andrò a rilasciare tutti i link di Play Jockey Editor che è il mio sponsor ufficiale del canale ragazzi come vedete questo mese, quest'oggi diciamo non questo mese Play Jockey Editor mi ha inviato questa fantastica cuffia originale della Sony questa è un modello MDR-ZX220BT ragazzi come avete visto, è una cuffia wireless Bluetooth come dicevo della Sony e quindi giocherò con questa cuffia prossimamente e avremo anche i comment, possiamo valutare questa cuffia io ragazzi sono un po' così un po' grezzo, vado per la distruzione, opto per la distruzione ragazzi un attimino, ecco se faceva tanto presto aprirlo, io invece l'ho fatto, ho optato per la distruzione quindi andiamo a vedere questa cuffia ragazzi qua abbiamo pure il mio joystick rosso fuoco davanti qui vediamo come se apre questa cosa che io sono negato per aprirte cazzo le cose insomma ok, sembra che arriva, mamma mia ma che esiste, le scatole ne possono far meno complicate eccola qui ragazzi, abbiamo questa cuffia senti i rumori da fondo, se stanno vediamo che altro abbiamo, abbiamo la cuffia abbiamo un caricatore e un libretto di istruzioni ragazzi qui abbiamo un libretto di istruzioni per tutti quanti i vari cazzetti abbiamo questo formulario, sto papel de roba insomma per chi fosse interessato a questo genere di articoli come ho già detto prossimamente lascerò sul canale i link di PlayGiochi Editor e tutto il resto è nulla ragazzi, questa è la cuffia, andrò a provarla giustamente la cuffia e vi farò sapere tutte quante le caratteristiche della cuffia, come va, come non va però secondo me è una bella cuffia ragazzi quindi penso che vada abbastanza bene detto questo ragazzi un saluto a tutti questa è la cuffia, questo è il modello della cuffia ragazzi ringrazio il mio sponsor contattatemi se volete sapere qualcosa di più riguardo lo sponsor per il momento ancora non posso mettere il link diciamo dello sponsor però posso mettere la mail se avete bisogno di qualcosa potete contattare direttamente PlayGiochi Editor quindi ringrazio PlayGiochi Editor di questo unboxing detto questo ragazzi un saluto a tutti un saluto a PlayGiochi Editor grazie ancora per questa fantastica cuffia ps4 e al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti